Sviluppo sostenibile, quattro ministri a Napoli è toccato a Franceschini aprire il festival che punta a combattere le disuguaglianze. Il sindaco De Magistris chiarisce i nostri progetti, vanno già in quella direzione, tra i ospiti anche Martina, Poletti e De Vincenti. Boccia scommette sul rilancio del Sud. Il presidente nazionale di Confindustria apre all'Università di Salerno la borsa della ricerca. Il mezzogiorno, laboratorio dell'innovazione, può diventare un grande polo manufatturiero. Il boss di Lauro si nasconde a Dubai, porta negli Emirati la nuova pista per catturare il figlio del capoclan di Secondigliano, sparito da 13 anni. Comunica con i fedelissimi, con i pizzini. Di lui gli inquirenti hanno solo una foto di quando aveva 20 anni. Somma e scontro sul rinvio del voto. Il PD oggi dal prefetto Pagano per chiedere l'annullamento delle elezioni. Dopo le minacce e le intimidazioni subite da un candidato sindaco. Ma le altre liste dicono no a garantire la democrazia. Vigili del fuoco scatta la protesta. Anche in campagna i caschi rossi hanno manifestato per chiedere parità di trattamento con gli altri corpi nazionali di sicurezza. A Benevento consegnato un documento al prefetto. Sanità e crisi alla Villa dei Pini. La clinica vellinesi annuncia 22 licenziamenti scatta allo sciopero di 24 ore. Il sindacato accusa c'è chi vuole cancellare la psichiatria. Contestati i tagli sono illegittimi. Nuovo appuntamento con l'informazione di 8 Channel News. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con il Festival dello sviluppo sostenibile organizzato dall'ASVIS. La rete italiana di organizzazioni che si occupano di sostenibilità a diversi livelli. L'intervento del sindaco De Magistris è particolarmente incisivo. Dice liberismo in crisi, la nostra città è il vero modello per i nuovi progetti. Ha preso il via Napoli Festival dello sviluppo sostenibile 2017 dell'ASVIS. La più estesa rete italiana di organizzazioni che si occupano trasversalmente di sostenibilità ambientale, economica e sociale. La manifestazione che si svolge dal 22 maggio al 7 giugno in tutta Italia e che conta oltre 220 su territorio ha lo scopo di richiamare l'attenzione sui 17 obiettivi di sviluppo sostenibile e sull'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite che l'Italia ha sottoscritto nel 2015. Napoli sta già andando nella direzione dello sviluppo sostenibile, ha affermato il sindaco Luigi De Magistris e lo dimostrano i progetti per cui abbiamo ottenuto il finanziamento europeo. Napoli già va in quella linea, basta vedere i progetti per cui abbiamo ottenuto il finanziamento europeo. La persona al centro, l'inclusione sociale, la lotta alle discriminazioni, la valorizzazione delle differenze, un rapporto diverso tra spazio e persona. Credo che Napoli in questo, sin dall'inizio, ha accolto che il capitale umano è l'energia fondamentale per costruire una società migliore. Presente anche il ministro Dario Franceschini che ha sottolineato che siamo un paese con un vastissimo patrimonio culturale, materiale e immateriale. Da 2015 ci sono indicatori positivi, anche se piccoli. Investire in cultura è anche una questione di competitività del sistema del paese. Inoltre la conoscenza è anche il miglior antitodo per combattere le paure verso l'altro. E a Napoli questa mattina è intervenuto la Camera di Commercio, il ministro degli esteri Angelino Alfano, che ha partecipato all'evento La Farnesina e le imprese. Siamo nel G7, ha spiegato Alfano, ma quando pensi all'Italia non pensi ad una potenza militare. Siamo la superpotenza della bellezza, della cultura, di uno stile di vita, del design e soprattutto del talento imprenditoriale. Noi siamo il brand Italia, il brand Italia funziona. Alfano ha rilanciato la necessità di realizzare una squadra che sia ancora più forte, composta da governo, Farnesina e imprese, La Campania e Napoli, possono far parte di questa squadra vincente. Ripartire dall'innovazione tecnologica e anche dall'industria, perché il Sud può diventare un grande polo manifatturiero. Lo ha detto Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, questa mattina a Fisciano. Fare del mezzogiorno un laboratorio per l'innovazione tecnologica, ma senza dimenticare l'industria, perché l'Italia resta un grande polo manifatturiero nel quale il Sud è chiamato a fare la sua parte. Aprendo la borsa della ricerca all'Università di Salerno, il presidente nazionale di Confindustria, Vincenzo Boccia, traccia la rotta per rilanciare la questione meridionale, dopo anni di disattenzione. Ci giochiamo una grande sfida paese, che è la questione dell'industria 4.0, cavalcare la quarta rivoluzione industriale, in cui i fattori di produzione sono 4, non più 2, capitale, lavoro, conoscenza ed informazione. Ed è significativo che accade a Salerno, nel mezzogiorno del paese, in cui negli ultimi anni abbiamo avuto un po' di distrazioni sulla questione industriale. Presidente, si parla molto di enogastronomia, di turismo, delle eccellenze. Come si può evitare che i cervelli, che sicuramente al Sud non mancano, vadano via, non solo dalla Regione, ma anche dall'Italia? Finanziando lo sviluppo e non la disoccupazione. Dobbiamo riportare al centro della società le persone e al centro dell'economia le imprese, ritornando a una grande forza del paese, che è la forza industriale. Il mezzogiorno può essere il grande laboratorio dell'innovazione e della questione industriale e il paese deve ripartire proprio dall'industria. Sulla stessa lunghezza d'onda, l'assessore alle attività produttive di Palazzo Santa Lucia, Amedeo Lepore. La via dello sviluppo per la campagna può essere e deve essere anche quella della ricerca? Assolutamente sì. È una via molto importante perché consente di fare quel salto di qualità che è necessario per rendere stabile lo sviluppo, per attrarre nuovi investimenti in modo duraturo e per creare quella connessione fondamentale tra ricerca, innovazione e impresa. La Titante ormai da 15 anni potrebbe essersi trasferito a Dubai, tra i grattacieli dell'alta finanza degli Emirati. Stiamo parlando del super boss Marco Di Lauro. Droga, soldi sporchi, riciclaggio, sparito nel nulla ma con gli affari che continuano. Lo hanno cercato dovunque nel mondo ma non lo hanno trovato. Ora si batte una pista che punta dritta ai grattacieli degli Emirati, da dove potrebbe ancora fare affari il boss Di Lauro. Marco Di Lauro, l'ormai famigerato F4, latitante da 13 anni come boss di Secondigliano, resta un fantasma sparito insieme alla sua famiglia. Una pista punta dritto a Dubai. In tanti hanno trovato casa sfuggendo alla legge italiana, a partire da Raffaele Imperiale, quello diventato famoso, perché custodiva due dipinti di Van Gogh, trafugati 15 anni fa dal Museo Nazionale di Amsterdam. Marco Di Lauro, condannato in via definitiva a 10 anni di reclusione per associazione camorristica e droga, è stato assolto nei vari gradi di appello in questi anni da alcuni omicidi che hanno scandito la storia della prima sanguinaria faida. Tra il 2004 e il 2005, oltre 60 morti in pochi mesi. Ci furono quegli anni arresti eccellenti come il padrino Paolo Di Lauro e il figlio Cosimo. Per questo il super boss diventò Marco Di Lauro, mantenne l'egemonia del Terzo Mondo e firmò la tregua con gli scissionisti, consolidò il suo potere nel narcotraffico. Per mesi sono stati monitorati strani incroci sull'asse Roma-Dubai e qui chi ha prodato Marco Di Lauro di sicuro manca dal territorio napoletano dal 2011. Dopo aver sorseggiato quel succo di frutta offerto da un uomo gentile, il buio, l'ultima cosa che ricordano è proprio quell'uomo che gli aveva offerto una bottiglia refrigerante. Amaro il loro risveglio quando si sono resi conto di avere gli zaini svuotati. Potrebbero essere stati tutti drogati i sette ragazzi che sono finiti in ospedale ieri mattina a Napoli. È successo su una spiaggia libera a cui si accede da Vico Prima Marina ai due palazzi nella zona di San Giovanni a Teduccio. Saranno le analisi ad accertare se i ragazzini siano stati realmente drogati da quell'uomo. Cambiamo argomento. Il PD di Somma Vesuviana nel pomeriggio dal prefetto per chiedere il rinvio delle elezioni comunali. Le altre liste gridano allo scandalo. Viene meno la democrazia. Rinvio del voto a Somma è il giorno cruciale. Oggi i democratici proveranno a far valere le proprie ragioni. Il PD infatti ha preparato un documento in cui si sostiene come il voto nella cittadina vesuviana chiunque dovesse prevalere l'11 giugno prossimo risulterà alterato o condizionato. Ad illustrare al prefetto Pagano questa tesi saranno il segretario dem di Somma Vesuviana Giuseppe Auremma, l'europarlamentare Andrea Cozzolino, la segretaria regionale del PD Assunta Tartaglione, il segretario provinciale Venanzio Carpentieri e il deputato Massimiliano Manfredi. Gli altri aspiranti sindaci non restano però a guardare. Chiedono anch'essi attenzione per garantire il regolare svolgimento del voto ma si dicono contrari al rinvio delle elezioni. Io penso che il voto non debba essere rimandato perché il voto a Somma Vesuviana è libero, ci sono delle persone che ci hanno messo la faccia, non sono state intimidite, i miei candidati non sono stati intimiditi da nessuno, quindi non penso che ci sia questa possibilità e non la vedo questa possibilità, sarebbe solo contro la democrazia. Ritengo che non ci siano delle condizioni tali da poter giustificare un rinvio perché un rinvio delle elezioni non è una cosa semplice, è un rinvio che deve intervenire il Ministro degli Interni, ci deve essere un'allarma sociale, con tutta onestà. Quest'allarma sociale al momento io non lo vedo, se poi ci sono carte che io non conosco, vabbè allora provvedo a chi è delegato a fare tanto. Stato di agitazione nella giornata di oggi in campagna per i vigili del fuoco aderenti al sindacato CONAPO. Stamattina hanno consegnato un documento ai prefetti di tutta Italia per chiedere al governo maggiori attenzioni economiche, soprattutto di essere equiparati agli altri corpi. Il segretario nazionale del CONAPO Antonio Brizzi è giunto all'ottavo giorno di sciopero della fame. I delegati provinciali del sindacato autonomo Vigili del Fuoco questa mattina in tutta Italia hanno invece consegnato alle prefetture un documento con al centro la richiesta di essere economicamente equiparati alle altre forze di polizia, come hanno ribadito i delegati del sindacato dei Vigili del Fuoco di Benevento e Salerno. Un documento da consegnare al Ministro dell'Interno Marco Minnitto. In vista dell'approvazione del decreto di riforma del corpo conseguente alla legge Madia che dovrebbe essere varato al giorni dal Consiglio dei Ministri per sensibilizzarlo a stanziare più fondi per la rivoluzione dei Vigili del Fuoco. Quello che chiediamo noi è un incremento dei fondi perché sono molto insufficienti per una giusta recuperazione alle altre forze dello Stato. perché noi, come già sapete, abbiamo altre volte manifestato soffriamo di una differenza enorme rispetto agli altri corpi in particolar modo con la Polizia di Stato, stesso Ministero. A parità di qualifica abbiamo una media di 300 euro di differenza mensile. Inquinamento delle acque, deturpamento ambientale, omissione dati d'ufficio e frode nelle forniture pubbliche, sono le accuse contestate a vario titolo da Guardia di Finanza e Procura di Salerno nei confronti di 15 indagati fra cui amministratori locali e responsabili tecnici dei comuni di Ottati e Castiglione dei Genovesi. Le indagini iniziate nel luglio del 2015 hanno portato al sequestro di due impianti di depurazione presenti appunto sul territorio. Nel Mirino i presunti scarichi illegali, nei torrenti Laura e Reillo e nel parco regionale dei Monti Picentini. Solo qualche mese fa la Procura Salernitana aveva messo nel Mirino gli impianti di depurazione della costiera amalfitana disponendo sequestri e le indagini sono ancora in corso. Ancora il tema del lavoro. Ci spostiamo in Irpini a 22 licenziamenti alla Villa dei Pini di Avellino. Lavoratori e sindacati sul piede di guerra da stamattina. Uno sciopero che parte e dura 24 ore. L'azienda avvia le procedure per 22 licenziamenti e scatta lo sciopero dei dipendenti. Nel caos Villa dei Pini, struttura psichiatrica di Avellino dove i lavoratori dalle 8.30 di questa mattina hanno incrociato le braccia. Falliti per ora tutti i tentativi di conciliazione in prefettura. Dalla proprietà non arriva nessuna apertura, denunciano i sindacati. Il problema è sociale. Qui c'è un chiaro disegno per cancellare la psichiatria in Campania. Nessuna apertura viene questa mattina dall'azienda nonostante l'alta adesione allo sciopero e anzi l'azienda non si è fatta proprio vedere. Pare che siano in ferie tutti quanti a parte i responsabili dell'azienda. Noi sceglieremo a breve quali sono le modalità con le quali andare avanti alla nostra mobilitazione. Ci sono turni che sono massacranti per i lavoratori e questo la dice lunga anche sugli esuberi che sono stati dichiarati. Noi abbiamo chiesto all'azienda il piano industriale che da più di un anno non ci ha consegnato. Abbiamo avuto anche modo di, durante gli incontri in prefettura, chiaramente questi licenziamenti sono del tutto illegittimi. Adesso già non ci siamo con i rapporti tra infermieri e pazienti. Figuriamoci dopo i 22 licenziamenti che comprendono 12 infermieri. La psichiatria sta sparendo, cioè a un certo punto hanno messo una lineetta e hanno detto che la psichiatria non esiste più, il malato psichiatrico non esiste più. È importante protestare perché l'azienda non vuole eliminare i licenziamenti, quindi noi saremo qui tutto oggi, tutto stanotte, domani mattina. E se questo non basta andremo oltre. Cambiamo argomento, andiamo a Salerno. Ha tentato di farla finita sparandosi un colpo di pistola all'addome dopo aver ingerito un cocktail di farmaci ed alcol. Protagonista un vigile urbano di Salerno che voleva suicidarsi. È successo la scorsa notte a casa dell'uomo in via Leucosi a Salerno. Sotto sciocchi i suoi colleghi è ricoverato in gravissime condizioni al Ruggi d'Aragona. Nella vigilia del 25esimo anniversario della strage di Capaci, a Benevento si ricordano le vittime della mafia. I veri nemici di Falcone e Borsellino non erano soltanto i mafiosi, i politici collusi e gli esponenti istituzionali corrotti di quel tempo, ma erano anzitutto i pregiudizi, il rifiuto acritico di capire e sostenere l'audace disegno riformatore di Falcone e lo streno e disperato impegno investigativo di Borsellino. Questo uno dei passaggi fondamentali del messaggio del procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, al convegno Le vittime di mafia, la memoria, le responsabilità, il ruolo delle istituzioni e la società, promosso a Benevento dalla Procura della Repubblica in occasione del 25esimo anniversario della strage di Capaci che ricorre il 23 maggio. Una lettera densa di significato, quella di Roberti, che non ha potuto prendere parte all'appuntamento perché impegnato con il plenum straordinario per la pubblicazione degli atti su Giovanni Falcone. Un atto importante che traduce la memoria in impegno vero sul tema agli interventi di tutte le autorità riunite all'auditorium Sant'Agostino. Poco prima il taglio del nastro per la mostra lucida al buio allestita nel Salone della Prefettura di Benevento. La mostra parte dai fasci siciliani e quindi naturalmente dai primi omicidi e dai primi mafiosi all'arresto di Provenzano. Se non c'è la cultura della gravità non ci può essere lotta alla mafia. Ci sono stati dei caduti, oggi presenti, sempre presenti tra noi, che sono morti per colpa e per mano della mafia, criminale, assassina, ignorante. L'ignoranza è la mafia, la cultura della gravità è lo Stato e la lotta alla mafia. Una grande storia partita come una scommessa locale è diventata appunto di riferimento internazionale. Così il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha la presentazione della nuova edizione del Giffoni Film Festival. Una grande storia che da un piccolo comune del Salernitano è diventato riferimento imprescindibile, capace di mettere in rete esperienze, ragazzi e creatività mondiali. Presentato al Liceo Tasso di Salerno, la nuova edizione del Giffoni Film Festival in programma dal 14 al 22 luglio. Ospite d'eccezione è l'attore Brian Craston, protagonista della pluripremiata serie TV Breaking Bad. Per il governatore Vincenzo De Luca, che in conferenza stampa ha ripercorso il suo impegno da sessantottino, proprio tra le aule del Tasso, vissuto poi come la fine delle illusioni studentesche, l'occasione per sottolineare l'importanza dell'appuntamento, mentre il fondatore e direttore artistico Claudio Gubitosi ha lanciato la sfida per fare di Giffoni la Silicon Valley italiana di qui a tre anni. Un grande evento di promozione della nostra immagine e di sottolineatura degli elementi di creatività straordinaria che sono presenti nei nostri territori. Coimbolge migliaia e migliaia di ragazze e ragazzi, di istituti scolastici, di università, quindi è diventato davvero un evento di grandissimo rilievo sul piano nazionale ed internazionale. Ultimi di avali credo che sarà completato entro questa estate ed è uno degli elementi di maggiore interesse che ha portato con sé l'esperienza di Giffoni, nel senso che cresce una struttura che è formativa e produttiva nel campo delle nuove tecnologie. Nel 2020 la campagna potrà mettersi un altro fiore all'occhiello, quello di avere sì tanti eventi importanti e conosciuti nel mondo, ma anche un luogo più o meno come la Silicon Valley. È una scommessa e una promessa da parte mia. Le telecamere di Otto Channel in strada di notte con la Polstrada di Benevento, il servizio di Alessandro Fallarino. Sono decine gli automobilisti fermati e controllati dagli agenti della Polizia Stradale di Benevento e dalla squadra volante nello scorso fine settimana. La novità dei controlli è stata rappresentata dall'utilizzo di una nuova apparecchiatura, un precursore per stabilire se si è fatto uso di droghe, che abbrevia nettamente i tempi del controllo preliminare, come ha spiegato il comandante della Polizia Stradale di Benevento, Antonio Vetrone. Per la prima volta nella provincia di Benevento viene utilizzato questo nuovo dispositivo che consente un accertamento su strada della presenza di tracce di droga, di varie sostanze stupefacenti nel sangue. Il vantaggio di questo nuovo strumento è quello di poter aumentare il numero di controlli su strada in quanto prima per riscontrare l'effettiva presenza di sostanza stupefacente c'era la necessità di portare il conducente presso un ospedale per approfondire l'analisi. Con il precursore invece noi abbiamo già un riscontro su strada. Per fortuna il bilancio del servizio straordinario restituisce un risultato confortante, ovvero nessun automobilista è il risultato positivo all'uso di stupefacenti. Tre invece provvedimenti amministrativi per guida sotto l'effetto dell'alcol. E adesso torniamo ad Avellino. Sono stati nominati i tre componenti del Comitato di Gestione del Teatro Carlo Gesualdo. Intanto la Commissione Urbanistica accelera sui deors del corso e anche sulla riqualificazione della periferia di Quattrograna. Ad Avellino si accelera negli step verso il nuovo Teatro Gesualdo. Questa mattina Foti ha firmato i decreti di nomina dei tre componenti che guideranno il massimo cittadino fino alla fine della prossima stagione artistica confermando le indiscrezioni della vigilia. Presidente sarà Antonio Felice Caputo colonnello della Guardia di Finanza ex sindaco di Aiello del Sabato già consigliere provinciale del PD. Gli altri due membri sono l'avvocato atripaldese Angelo Maglietta vicino al deputato di scelta civica Angelo D'Agostino e Rosalia Iandiorio avvocato amministrativista che sarebbe stata indicata dai De Cariani. Intanto la Commissione Urbanistica ha approvato il regolamento per il nuovo look dei gazebo sul corso Vittorio Emanuele e così Avellino prova a rilanciare il commercio. È una grande opportunità per la città perché permette al commercio di avere sicuramente qualche possibilità in più per gli spazi della città per riqualificarsi. I De Hors arriveranno ora in Consiglio Comunale norme stringenti per rispettare il gusto estetico e condivise con i commercianti. Noi abbiamo condiviso con loro chiaramente tutto questo percorso abbiamo fatto varie riunioni e la ritengono una grande opportunità perché si tratta di poter estendere all'esterno la loro attività però questo sarà fatto in maniera coordinata affinché ci possa essere una tutela soprattutto per le zone più delicate della città pensiamo a Corso Vittorio Emanuele il centro storico. E intanto si accelera anche sul fronte della riqualificazione urbana per Quattrograna Ovest Tutti sappiamo che Quattrograna Ovest è una delle zone più degradate della città di Avellino finalmente con questo abbandono periferie e poniamo rimedi a questa struttura e per il progetto degli orti urbani Questi spazi potranno essere autogestiti dai cittadini per poter realizzare appunto degli orti. Una marcia per salvare il fiume Irno dall'inquinamento in campo, associazioni e cittadini Il Parco dell'Irno non esiste più dopo la decisione dei comuni di scioglierlo e il rischio concreto è che non solo si possa privatizzare un bene pubblico come l'acqua ma che il fiume che attraversa tanti territori fino a Salerno diventi una cloaca nella quale continuare a scaricare e avvelenare ecosistema e persone Questo il monito delle associazioni che si sono date appuntamento in piazza Luciani e Salerno per presentare la marcia in programma domenica 28 maggio a tutela dell'ambiente e del territorio Noi ripartiamo dal Parco Urbano dell'Irno che è stato sciolto noi diciamo in maniera sciacurata proprio quest'anno nel 31 dicembre del 2016 il Parco Urbano dell'Irno proprio per rilanciare il senso del bene comune dell'acqua e anche dei fiumi Fiume Irno, quel fiume che viene massacrato dalle fonderie Pisano che viene inquinato quotidianamente dalle fonderie vogliamo rilanciare il Parco Urbano dell'Irno Va difesa l'acqua nella sua gestione pubblica senz'altro ma anche va difesa dalle varie forme di inquinamento che la minacciano Recentemente la Regione Campania ha effettivamente stabilito una difesa dei bacini idrici più importanti dentro le rocce carbonatiche almeno rispetto al rischio delle trivellazioni ma naturalmente è una cosa importante ma ancora limitata E oggi 22 maggio si celebra Santa Rita la santa dei casi impossibili alle 18.30 ad Avellino esce la processione Oggi è il giorno di Santa Rita culto particolarmente sentito ad Avellino stamattina nella chiesa dedicata alla Santa di Cascia sono andate avanti le celebrazioni eucaristiche nel pomeriggio alle 18.30 la processione per le vie del centro cittadino guidata dal sindaco Paolo Foti una devozione forte per quella che è stata definita la santa dei casi impossibili È una delle feste di vita più seguite soprattutto la processione molto sentita dalle persone È una santa dei casi proprio estremi e quindi ognuno di noi nella vita vive un momento di estrema necessità È la festa più bella che esiste quindi sono molto devota cerco di venire ogni anno e niente nella speranza che Santa Rita dia tanta pace e serenità a tutti È un'esperienza che si fa con la propria fede comunque non ci abbandona È una santa come dire che ha risolto i problemi più impensati per cui si è creata questa tradizione di fedeltà assoluta e chiedere qualsiasi grazie Noi la onoriamo Santa Rita perché ci crediamo siamo fedeli, praticanti Nella tradizione dobbiamo stare sempre presente nel bene e nel male sempre presente Santa Rita non ci va mai più a godere a noi Lei ama Gesù e noi attraverso di lei arriviamo a Gesù Io sono un cattolico non conoscevo queste caratteristiche di Santa Rita lo confesso con molta humiltà È la santa dei miracoli era mamma e speriamo che faccia le sue grazie La prima cosa è di far stare bene a tutti e speriamo bene come vanno le cose Soprattutto a noi ci deve aiutare ma a livello economico non tanto la salute che ci serve Anche perché è il mio nomastico quindi ci tengo molto a Santa Rita Cambiamo argomento Anno c'era inferiore presentato il Campania Eco Festival due settimane di eventi nell'isola ecologica di Fosso Imperatore Torna il Campania Eco Festival primo progetto in Italia a realizzare concerti in un'isola ecologica la musica che diventa uno strumento per formare ed informare soprattutto le nuove generazioni sugli aspetti positivi derivanti dal Green Economy un settore in continuo sviluppo in Campania come in tutta Italia La settima edizione del Campania Eco Festival è stata presentata al comune di Nocera Inferiore dal 24 maggio al 10 giugno spettacoli, mostre ed eventi cinematografici nell'isola ecologica di Fosso Imperatore Riusciamo a portare persone all'isola ecologica grazie ad una grande offerta di line-up artistica quest'anno ricordo ci saranno i foglie di Alma Magretta in un contesto dove le persone si troveranno immerse in una onda informativa su come fare bene la raccolta differenziata Questo è veramente secondo me una delle eccellenze diciamo della nostra regione che deve essere esportata perché citando appunto Faber dai diamanti non nasce niente dall'etame nascono i fiori dalla raccolta differenziata nascono i festival nasce la musica e quindi questo tipo diciamo di meccanismo è assolutamente virtuoso e va esportato fatelo in tutta Italia, prendete esempio e adesso torniamo in Irpini a premio di letteratura sportiva Savignano una giornata nel ricordo di Giuseppe Paoletti e Mario Pisano La promozione dello sport attraverso la scrittura focalizzando l'attenzione su quattro elementi essenziali gioia, divertimento, lealtà e sacrifici Protagonisti giovani a Savignano Irpino con la mente rivolta a due figure limpide dello sport Giuseppe Paoletti e Mario Pisano Il nostro caro Giuseppe Paoletti che ci ha lasciato ahimè ormai 21 anni fa in questo mese di maggio ha con sé l'amore per il calcio l'amore per i bambini lo ricordiamo come quel dirigente che era sempre presente pur di dare ai bambini il conforto e quindi trasportarli sui vari campi di calcio Per quanto riguarda Pisano invece è un illustre, possiamo dire, Savignanese che pur emigrando così in quella di Torino è riuscito a svolgere una carriera illustre diventare giornalista sportivo e raccontare anche quelle che sono le tante vicende che riguardano il mondo del calcio C'è una larga, larghissima partecipazione di giovani cioè di coloro i quali rappresenteranno poi la società del domani e quindi credo che questi incontri, questi convegni, parlare di sport sia molto importante per dare delle risposte in un momento difficile In concerto con le altre istituzioni e gli enti del territorio è quello di promuovere uno sport sano non soltanto attraverso la pratica sportiva in senso stretto ma anche attraverso altre manifestazioni come quella di oggi che è appunto scrivere lo sport Da parte mia è tutto Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori